ragazzi buongiorno a tutti diamo inizio al nuovo videoclip ciao rosalba ciao domenico al nuovo videoclip di fabio lo bianco dal titolo simrata voi ciave vai fabio 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 come stanno andando le riprese fabio posto almeno numero uno almeno grazie a me tutto bene o bene ragazzi allora noi lo facciamo con tutti gli artisti e questa la volta di farlo anche con fabio lo bianco innanzitutto seguitelo su instagram su facebook dappertutto perché merita è molto bravo fabio lo bianco official official me la canta un pezzo di questa canzone official si è nato perciate tu ho il latte con il caffè si è per me tutte malattie mi piaceva il segnale la rosa dal vivo è spettacolare veramente dal vivo è meglio da morto ragazzi per ora dobbiamo lavorare ragazzi e voi state dormendo va bene caro sfighi vengono più telecamere vedi che cosa fai no 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 ragazzi non siamo nel deserto ma siamo nel deserto dove siamo nel deserto boom 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 ne ho vivo fabio lo bianco eccolo 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 ragazzi finiscono qui le riprese grazie di questo grande amico se non chi è artista una buona serata a tutti fabio lo bianco ragazzi andremo vivo alla grande carmelo ragazzi alla prossima vi raccomando condividete questo live vi salutiamo mandiamo un forte abbraccio agli amici dell'anno vivo e a tutti i fan di fabio lo bianco seguitemi sempre mi raccomando ciao Erodi!